Esaltare la bellezza spirituale delle donne attraverso l'arte per lenire le ferite che le sono state inferte in passato e purtroppo ancora oggi nella vita di tutti i giorni. E' questo il filo conduttore della mostra La Forza delle Donne allestita da Agnone a Palazzo San Francesco nell'ambito di un progetto culturale della Diocesi di Trivento curato da Don Settimio Luciano che si avvalso della collaborazione del Centro Studi Alto Molise che proprio quest'anno festeggia i suoi primi 30 anni di attività. L'intento della Diocesi di Trivento che ha posto proprio come titolo di tutto il progetto culturale, proprio La Forza delle Donne, questo è il concetto sostanziale, è quello di celebrare la bellezza della donna attraverso l'arte, la poesia, la letteratura e anche la teologia. Riscoprendola una donna che è sostanzialmente un elemento centrale della società, forte di una forza che si accompagna alla dolcezza, all'accoglienza, al saper soffrire quando è il momento in cui ci si chiede di soffrire ma anche a saper fare delle scelte forti ed importanti nel momento in cui ci viene chiesto di farlo. La Diocesi vuole proprio riscoprire la dimensione piena della donna nella società e soprattutto alla luce dei tanti eventi che avviliscono, sconvolgono e mortificano la forza delle donne. La mostra dedicata alle donne, curata da Walter Amirante, resterà aperta al pubblico fino al 14 aprile, l'occasione ideale per conoscere più a fondo anche uno dei tesori più importanti di Agnone, Palazzo San Francesco. Risalenti al XIV secolo è un autentico scrigno che contiene arte, storia e cultura. La sua gestione è stata affidata all'Associazione Tradizioni e Sviluppo. Questo taglio che abbiamo dato ha trasformato un'attività che apparentemente poteva essere statica, quella di un palazzo del 1300, il chiostro almeno quella la prima parte dell'ingresso del convento e la parte superiore del 1700 in un'attività che sta diventando dinamica. Perché dinamica? È un luogo che ospita una mostra permanente, quella del libro antico, ha dei soffitti linei che rappresentano un unicum a livello internazionale. Sono tuttora oggetto di studio anche presso università straniere. Questo perché ci sono delle iconografie alchemiche. La particolarità poi di questa nostra iniziativa consentirà di ospitare altre mostre temporanee e anche eventi di carattere culturale che stanno vivacizzando questo luogo che è sicuramente di grande interesse culturale.